Giuseppe aveva solo 26 anni. Il prezzo che il nostro territorio paga e l'Italia pagano per il lavoro che dovrebbe essere un diritto, lo ha affermato il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, dopo la morte del giovane operaio di Volla, schiacciato da un rullo della fabbrica di San Marco Evangelista nel Casertano. Fermiamoci a riflettere, ha continuato, le imprese facciano la loro parte, lo facciano anche i sindacati, facciamola tutti. La procura di Santa Maria Capoavetera ha iscritto due persone nel registro degli indagati per la morte sul lavoro di Giuseppe Borrelli. La procura ha sul caso aperto un fascicolo, indagano i vertici della società. Disposto anche il sequestro del macchinario, che prima avrebbe risucchiato per un braccio il giovane, poi schiacciato nel tardo pomeriggio di martedì scorso, 12 marzo, davanti agli occhi terrorizzati e sgomenti dei colleghi. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Il giovane era stato assunto da poco meno di 20 giorni. Sulla vicenda indagano gli uomini del commissariato di Maddaloni in collaborazione con i medici del lavoro dell'Asda di Caserta. Il sostituto procuratore Luisa Turco ha aperto un fascicolo per la morte del giovane operaio e nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo e violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro, sono state iscritte due persone ai vertici dell'azienda. La stessa procura non esclude che la cerchia degli indagati possa allargarsi. Negli prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul corpo, i sindacati hanno scritto anche alla prefettura e agli organi preposti alla vigilanza, esortando a controllare che ognuno sia ligio alle regole.